ben ritrovati amici telespettatori di legnano web tv per l'ultima partita dei quarti di finale di questa coppa carossa qui dal lago di percine valsugana tra la water basket firenze la water basket di bolzano qui vicino a me per il commento di questa partita cametti silvio allenatore della water basket bentecodi di verona al quale do veramente un caloroso benvenuto grazie grazie a voi grazie a tutti voi e godiamoci questo quarto di finale fra una delle squadre più titolate d'italia che è firenze e una delle ultime arrivate invece che bolzano che già comunque da qualche anno che che si è dedicata water basket e che ringraziamo per l'organizzazione di questa trofeo carossa assolutamente ringraziamo tutta la water basket bolzano per chiaramente l'organizzazione io direi assolutamente impeccabile ringraziamo veramente giorgio braus e tutti i suoi collaboratori che pensa ieri sono già nel primo pomeriggio erano qua a montare il campo e mentre io mi godevo il panorama e soprattutto mi bevevo un paio di birrette devo essere sincero invece loro erano qui a faticare sudare montare questo campo infatti questa è sicuramente una cosa impegnativa perché mi ricordo nel 2019 che ho organizzato una finale di supercoppa italia fra firenze appunto e bentegodi verona le due squadre più titolate nel porticciolo di torri del benaco a lago di garda e ti assicuro che veramente una faticaccia mettere in piedi un evento del genere hai detto proprio torri del benaco peraltro insomma io conosco molto bene quella zona della del lago di garda peraltro insomma bardolino garda e poi torri beh insomma hai detto proprio una location assolutamente stupenda anzi io sono convinto che se si vuole promuovere ancora di più questo sport ci vogliono queste esibizioni nei laghi all'aperto perché richiamano tanta gente e soprattutto richiamano tanti curiosi che vengono a vedere questa bellissima disciplina si appassionano certo questo è stato l'unico evento di waterbasket in tutto il lago di garda e speriamo che ce ne siano altri in futuro perché sicuramente spettacolare giocare dentro un porticciolo assolutamente stiamo a vedere intanto appunto punteggio ancora a canestri inviolati zero a zero direi che insomma sulla carta questo è il quarto di finale decisamente più agguerrito vero sì sembra appunto così perché non abbiamo visto addirittura neanche un tiro e vediamo ancora controllo da parte di bolzano non va veramente il canestro peccato ancora recupera firenze con il numero 2 brugnoli vediamo la nuotata da parte cora chiusura veramente recupero da parte di bolzano ancora vediamo il controllo da parte del numero 13 ancora diamo controllo da parte di bolzano vediamo con il numero 3 cicciarella ancora conclusione vediamo che riprende ancora il possesso bolzano veramente palla sprecata da parte di cicciarella e ancora vediamo sempre bolzano veramente con non ce la non riesce ma incredibile il canestro da parte del numero 5 oncini che segna il canestro del 6 a 0 veramente allo scadere e termina questo primo quarto assolutamente molto divertente silvio sì volevo sottolineare il canestro di vincenzo oncini che oltre ad essere il giocatore più esperto del firenze è stato ed è tuttora un tecnico di valore ha allenato per la primo anno del water basket in assoluto in italia anche il water basket verona quando nel 2008 abbiamo iniziato l'attività e ha vinto con noi due scudetti prima di passare a firenze dove poi si è ripetuto beh ma ascolta te che sei un tecnico anche di palanuoto sinceramente posso farla tranquillamente questa domanda secondo te quanto è complementare questo sport alla palanuoto questo sport è molto utile anche per i palanuotisti perché si impara a marcare senza fare fallo perché qui il contatto è vietato poi chiaramente c'è sempre qualche spinta o trattenuta perché non si può stare staccati però si impara proprio a giocare in anticipo senza commettere fallo e poi si vede che tanti palanuotisti che magari sono forti fisicamente non riescono a mettere la palla in canestro perché non è facile comunque tirare senza l'appoggio dei piedi come nel basket sì indubbiamente ti ringrazio per questo tuo commento intanto veramente uno scatto che vabbè questo è ovviamente da da pallanuotista da parte di cicciarella e vediamo che riparte la water basket bolzano con il numero due ores diamo ancora la possibilità di tiro da due punti a tre punti da parte di bolzano con il numero 13 che peraltro non è qui nell'elenco quindi insomma però se la vi ovviamente è tre punti da parte di bolzano assolutamente divertenti ancora sempre bolzano che recupera e vediamo veramente il parziale da parte di bolzano veramente fantastico con la numero 6 benzan veramente 5 a 0 di parziale direi che bolzano ci sta assolutamente credendo sì infatti adesso bolzano sta cercando il recupero in questo tempo e volevo dire anche che nel water basket è uno sport dove possono giocare sia uomini che donne anche per questo il contatto è limitato esiste anche in slovenia un gran campionato con dieci squadre dove invece il contatto è un po' più permesso un po' più verso la pallanuoto è divertente anche quello però in italia diciamo va bene così sì indubbiamente anzi per me che vengo dalla svizzera posso dirti che soprattutto in svizzera centrale ogni tanto ho visto anche partite dell'altra versione del water basket che viene utilizzato anche dagli atleti che fanno pallanuoto addirittura ci sono tornei ricreativi mi diceva anche un amico in olanda peraltro con il canestro senza tabellone che puoi girare attorno chiaramente è un po' un'altra disciplina però insomma è bello è divertente giocare tutte e due però insomma diciamocelo chiaramente io preferisco questa questa versione con il tabellone e soprattutto perché esalta più la tecnica dei giocatori mentre quell'altro effettivamente insomma è un più la copia è un po' una tra virgolette una copia diversa del gioco della pallanuoto però insomma secondo me questo è uno sport che unisce spettacolarità tecnica ma anche tattica sì sì sicuramente devo dire che avendo giocato entrambe le due competizioni sia quelle col canestro dove ci si può girare attorno sia questo che quello che utilizziamo in italia sono entrambi divertenti è bello giocare anche l'altro sono tatticamente poi due situazioni diverse da giocare e qui comunque è più verso basket che non pallanuoto ecco e abbiamo visto che viene reclamato un fallo però chiaramente in questo caso ottima difesa da parte di Bolzano vediamo tentativo palla sul ferro recupera rimbalzo d'attacco Bolzano veramente ancora ottima difesa da parte di Firenze vediamo ancora il recupero dalla parte del numero 6 Brenzan ancora palla sul ferro e rimbalzo difensivo da parte di Brunoli sì adesso hanno reclamato fallo i giocatori del Bolzano ma secondo me poteva andare a canestro invece di fermarsi poi c'è stato il tiro sbagliato ma anche questo ci sta e due punti semplicemente strepitosi da parte del numero 8 Ferrari punteggio parziale di 8 a 5 da parte di Firenze assolutamente partita divertentissima però insomma io ho visto che anche te ti sei alternato tra gli arbitri della manifestazione anche insieme a Giorgio Braus sì questa è un'altra peculiarità del waterbasket essendo uno sport che incentiva un po' il fair play gli arbitri sono giocatori di altre squadre quindi inutile appunto fare falli sommersi perché tanto poi ci giochi contro a un arbitro per cui si cerca appunto di di limitare i falli e ogni canestro da tre punti semplicemente stratosferico da parte di Firenze con il numero 5 Oncini veramente parziale di 11 a 5 veramente fantastico intanto ottima dipesa da parte di Firenze Firenze ancora vediamo il ribaltamento ancora per Brenzan che tenta il tiro ma la palla termina fuori ancora Vincenzo Oncini ha fatto vedere che la classe non è acqua e ha messo dentro una tripla da circa 8 metri veramente beh ricordiamo io non so quanto sia la profondità di questo fondale perché chiaramente non sono andato sotto però insomma riuscire a segnare da quella distanza senza avere un appoggio vuol dire assolutamente avere una grande tecnica e questo assolutamente è un merito per questi giocatori sì beh certo qui non si tocca ma non si tocca nessuna piscina dove si gioca a waterbasket quindi è chiaro che è molto difficile fare canestro perché mentre appunto a basket ci si può spingere qui una mano ti serve per uscire dall'acqua e l'altra per tirare e vediamo fallo e due tiri liberi che verranno battuti da Oncini intanto appunto andiamo in lunetta per questo primo tiro libero palla sul ferro vediamo adesso il secondo tiro libero ancora che verrà battuto da Oncini andiamo carica il tiro va a dodicesimo punto no viene annullato sì ha tirato prima del fisco dell'arbitro e quindi giustamente viene fatto ripetere vediamo che appunto ripartirà con questo secondo tiro libero andiamo appunto incredibile palla che non colpisce neanche il ferro peccato riparte Bolzano ricordiamo 11 a 5 il punteggio veramente ultimo quarto di finale poi vedremo le semifinali e poi la finalissima di questo di questa coppa carossa veramente insomma in questo lago che semplicemente è una location a dir poco fantastica e vediamo che termina la partita appunto punteggio di 11 a 5 11 a 5 complimenti alle due squadre perché hanno giocato veramente bene al punto di vista difensivo poi qualche errore di troppo al tiro ha permesso a Firenze di vincere ed ora aspettiamo le semifinali dove tra l'altro abbiamo due squadre e vedremo magari ci incontriremo anche in un derby fratricida stiamo a vedere ci vediamo tra poco per la prima semifinale grazie a tutti grazie a tutti